La partecipazione dell'ascolto è una delle politiche che noi eseguiamo, realizziamo in tutti gli ambiti, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente d'accordo con il Ministro. Per quanto riguarda il secondo aspetto, credo che sicuramente si debba procedere in questa direzione. Sulla formazione vogliamo presentare il nostro modello, che è quello dell'utilizzo di polis per migliorare la formazione dei nostri dipendenti, dei nostri dirigenti. Ultima considerazione, ma non ultima, credo che l'autonomia potrebbe essere una grande opportunità per migliorare questi percorsi. Noi molte volte abbiamo realizzato delle leggi che andavano nella direzione di una semplificazione, una semplificazione che si fondava sostanzialmente sulla seconda parte, cioè sui controlli più che sulla difficoltà di intraprendere percorso. Molte volte i governi che hanno preceduto con l'attuale ci hanno costretto a ritirare le normative perché andavano ad incidere su materie concorrenti per cui non era nostro compito poter decidere i processi. Io credo che con l'autonomia ci sarebbe una semplificazione anche nella realizzazione della semplificazione. Abbiamo bisogno, se vogliamo guardare al futuro del nostro paese, di una pubblica amministrazione che funzioni. E una pubblica amministrazione che funzioni significa avere una pubblica amministrazione che eroga ai suoi utenti, che sono cittadini e imprese, servizi all'altezza delle loro attese. Quindi dobbiamo lavorare intensamente, dobbiamo farlo sia sul nostro capitale umano, quindi sulle nostre persone per metterle nelle condizioni di operare in modo corretto, soprattutto in un'epoca come questa che è un'epoca di grandi trasformazioni e quindi abbiamo bisogno di seguire il percorso di crescita delle nostre persone. E poi dall'altro dobbiamo migliorare tutti quei meccanismi, tutte quelle procedure, tutte quelle regole che disciplinano il rapporto tra noi e i nostri utenti. E la vera novità, visto che mi avete chiesto qual è la novità che porta Monza, diciamo che la vera novità di questo percorso Facciamo Semplice l'Italia sta nel metodo col quale cerchiamo di realizzare questo percorso di semplificazione, cioè non chiusi negli uffici romani, ma invece in una logica di confronto, di dialogo, di ascolto delle istituzioni territoriali, degli stakeholder. La richiesta che noi presentiamo al governo è una riforma strutturale delle province. Quest'anno compie dieci anni la legge del Rio e sappiamo noi che governiamo le province i danni che questa riforma ha fatto a questo ente. Ma oggi, parlava bene il Ministro, si parla di semplificazione che riguarda i cittadini, le imprese. Le province sono riuscite a semplificare le procedure per i comuni, quindi per gli enti locali.